Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dell'Harry Potter Server, Harry Potter World, chiamatelo un po' come volete Ho deciso di portarvi un altro video a breve distanza dagli altri perché ho visto che vi sta facendo molto piacere che vi porto più video su questo server Sta facendo piacere anche a me perché mi piace veramente un sacco il concetto di base di questo server per l'appunto Allora ci siamo lasciati nello scorso episodio in cui abbiamo provato a volare nel campo di Quidditch, siamo stati smistati nella casa di Corvo Nero E vi avevo lasciato a fine video dicendo che avrei dovuto cercarmi la sala comune del Corvo Nero Sarò sincero ci ho impiegato i secoli e alla fine ho dovuto chiedere a un prefetto del Corvo Nero di portarmi direttamente nella sala comune Perché se no non sarei riuscito ad arrivarci ma proprio mai nella vita Quindi al fine il prefetto mi ha accompagnato Se mi vedete senza armatura, quantomeno senza il vestito, è perché si è quasi consumato, vedete E perché praticamente, come ho scritto anche nei commenti a uno di voi, adesso non mi ricordo chi Praticamente ho assistito e ho anche partecipato a un duello proprio qui nella scuola, improvvisatissimo E di conseguenza la mia armatura si è praticamente distrutta tutta con questo duello Ma c'era gente che sparava incantesimi impressionanti, voi non ne avete idea Fra l'altro ho farmato, diciamo, dei soldi e ho potuto comprarmi anche la valigetta Perché adesso sono uno studente modello, vedete? A cosa serve questa valigetta? È molto bella Serve perché ci possiamo materializzare nei punti principali del mondo Soltanto quelli che abbiamo sbloccato Ora io ho esplorato veramente tantissimo la mappa E quindi adesso andiamo a vedere tutti i punti che ho esplorato Poi man mano che ne esplorerò altri, altri punti, altri waypoint verranno sbloccati Abbiamo la torre di astronomia, la banca, la zona dei valori, quindi sempre nella zona della Gringot Abbiamo il club dei duellanti, abbiamo il campo di Quidditch, per intenderci La Gameskeeper House, che non so bene cosa sia La sala comune dei Grifondoro L'ufficio di Silente La zona in cui c'è un ipogrifo, poi vedrete La sala comune dei Tassorosso L'ospedale, King's Cross, vabbè Little Wingings, il Star Ray praticamente alla casa dei Dusley London, quindi dove c'è l'Hogwarts Express Miner The Pot, ci sono andato a caso Tipo perché mi sono glitchato e quindi però non ho capito dov'è che ero Però vabbè Il Pensatoio, perché anche in quel caso ci sono finito dentro a caso La sala comune dei Corvolero, ovviamente La sala grande E poi questa roba qui che non ho ben capito cosa sia Ma tipo era già sbloccata quando sono entrato nel parco E non ho ben capito cos'è Non ci voglio neanche andare perché c'è la faccia di un lupo e non mi convince Vi faccio vedere come funziona Quindi clicco qui tipo Great Hole E vedete mi sono materializzato con questo effetto particellare Nella sala grande, è molto utile e figo Ah, si è appena materializzata anche un'altra Corvo Nero Eccola qua Comunque sia, vi faccio vedere un paio di cose prima di iniziare il video Prima di tutto adesso ho il Louse Scarf, praticamente la sciarpa da Corvo Nero Che posso mettermi qui, vedete Però preferisco non metterla perché si consumano facilmente queste cose Perché sarebbero praticamente dei vestiti Delle armature in pelle per intenderci Poi qui abbiamo la Firebolt che purtroppo ha soltanto tre usi Perché ho fatto una partita di Quidditch Ed è stata tipo la cosa più epica della vita Proprio c'era un sacco di gente che giocava Era un allenamento credo Perché non c'era la gente sugli spalti Quindi era un allenamento Ma è stato bellissimo ragazzi Fidatevi che è una cosa esagerata Ah, ce n'è uno che sta andando a fare allenamento forse Mi sa di sì Guardatelo Fantastico, sì mi sa che sta facendo esercizio Vabbè comunque sia E mi sono comprato anche una Nimbus 2000 Perché non avevo abbastanza soldi per riprendermi di nuovo un'altra Firebolt Comunque anche la Nimbus 2000 non l'ho ancora usata Magari la proveremo insieme in questo episodio Non lo so Poi qui ho un po' di oggetti Praticamente ho assistito alla prima lezione che era pozioni E quindi mi sono dovuto comprare delle sostanze per fare le pozioni Quindi tipo abbiamo Vabbè a parte questo che me l'hanno regalato Sono tipo degli scarafaggi Poi abbiamo Dragon Dung Che è tipo qualcosa di drago Però non so bene cosa sia Abbiamo la Sfodelio Abbiamo un'infusione di Wormwood Praticamente Worm vuol dire verme e legno Non so bene cosa sia Poi abbiamo una polvere con scritto Fly Quindi tipo se era qualcosa di mosche Non lo so Poi abbiamo la pelle di Girilacco Ali di Fata Poi vabbè abbiamo dei bastoncini di zucchero Niente di speciale Abbiamo delle lacrime di qualcosa Dei funghi Cos'è? Flow Barrow Mucos Vabbè il mucco di qualcosa Non so bene proprio cosa sia Abbiamo anche una burro birra Perché ho assistito a una festa Probabilmente c'era il compleanno di qualche admin O qualcosa del genere E quindi mi è rimasta una burro birra Che non voglio bere Perché guardate è bellissimo il modello Cioè è una cosa veramente fantastica E comunque Direi che andiamo un po' in giro Vi voglio fare Prima di tutto vedere una cosa Che mi ha consigliato un iscritto L'iscritto in questione è SammyJTV O TV Non so come preferisci chiamarlo Sa di fatto che questo ragazzo Veramente molto gentile Mi ha spiegato come ottenere cibo Perché io nello scorso episodio Anche con lo precedente Avevo problema del cibo E fino adesso io cercavo di non correre E se perdevo tutto il cibo Mi buttavo Mi uccidevo E responavo con la fame piena In questo caso lui mi ha spiegato Che se io clicco qui sopra Col tasto destro Dovrei teoricamente ottenere del cibo Adesso ci provo proprio in diretta con voi Ok funziona Tipo mi ha dato delle Dei meloni Ok è molto utile questa cosa E tipo adesso mi dice Ok il piatto qua sembra vuoto In realtà è pieno Però vabbè E' interessante questa cosa Comunque possiamo ottenere del cibo Ha lasciato un'incantesima casa Sto serpe verde E sì Direi che possiamo andare Nella sala comune Vi porto perché Ragazzi è veramente bellissima La sala comune dei corvo nero Non me l'aspettavo Veramente è molto bella Fra l'altro so che si possono sbloccare Tipo delle chest All'interno della casa Che possono tornare utili Per Tipo per riporre I tuoi oggetti No è veramente una cosa Molto figa e utile Devo vedere Devo scoprire come si sbloccano Tutte ste cose E poi magari vediamo anche di Provarle insieme Fra l'altro Visto che questa serie Vi sta piacendo così tanto Vi suggerisco di sopportarla Perché così Diciamo E' più E' più divertente poi portarvela Spero di non perdermi ragazzi eh Quindi andiamo da questa parte Perché è veramente complesso Sto posto Dovrei andare di qua Esatto E comunque sia Se ho visto che Vi sta piacendo pure a voi Fra l'altro L'iscritto di prima Sammy J Mi ha fra l'altro detto Che anche lui è diventato Un corvo nero Fantastico Quindi Siamo Un altro corvo nero Iscritto al canale Bellissimo Dobbiamo salire di qua Mi pare E mentre c'era un altro Che si chiama Nicola Se non mi sbaglio Un altro iscritto Mi ha chiesto Come si faceva ad accedere al server Perché lui non ci è riuscito Allora Adesso per tutti coloro Che sono interessati ad accedere Praticamente Quello che Dovete fare E' andare Prima di tutto Diciamo Inserire nel gioco In Minecraft Il L'IP del server Fatto questo Non vi farà entrare Però voi provate comunque Dovete loggare all'interno Lui salverà il fatto Che voi siete entrati Dopodiché andate sul Sul sito ufficiale Che vi lascerò Di cui vi lascerò il link In descrizione Lì vi registrate E poi riloggate All'interno del gioco Vedrete che Funzionerà correttamente Allora Siamo arrivati qui Questa qui è la sala comune Del Corvo Nero Che si accede Diciamo da questa parte Con questo pulsante Possiamo diciamo far Riaprire Riaprire il tutto Saliamo da questa parte Ed eccoci nella sala comune Con una nuvola Più buggata che mai Quindi da questa parte Possiamo comprare I vestiti E da questa parte Possiamo comprare Invece le borse Praticamente queste qui Per intenderci Questa qui è la statua Di Priscilla Corvo Nero Ok E l'avete Uno di voi Me l'ha scritto su facebook Che ha capito Subito in che caso Sarei stato smistato Dal titolo del video Grandissimo Perché Perché Quella frase Che era il titolo Dello scorso video Vale a dire Un ingegno smisurato Per un mago Dono Grato È una frase che ripete Spesso Luna Lovegood Nei Nei vari film E è una cosa Proprio Che riguarda Corvo Nero Quindi ho pensato Di metterla Come titolo Del video Sperando che qualcuno Di voi ci arrivasse Sì Allora Abbiamo qui Un cammino Che serve per materializzarci Con la metropolvere Purtroppo non ho ancora La polvere volante Quindi non posso Ancora tipparmi Che abbiamo Un pianoforte Con anche il legio Qua Veramente fantastico E di qui c'è La sala comune Delle ragazze Mi pare O forse no Non mi ricordo Se devo essere sincero No Qui si esce dal piano superiore Va bene Esatto Qui c'è Girls Dormitoriums Non so come si pronunci E Ah c'è un altro Corvo Nero Fantastico Tu hai Hai una borsetta strana E un occhio Tipo da malocchio Moody Tesla Yep Oddio L'hai scritto Aspetta Se è Sammy J Sei un grandissimo C'è Aspettate Vediamo se mi risponde È veramente lui? Che cosa? Vuole Vuoi una borsa? Do you got One gal Eh Top Piliati questa no? Ti regalo direttamente la borsa? Ok Non era un iscritto Però Va bene E gli abbiamo regalato una borsa Tanto io ne avevo un in più Perché Me l'avevano regalata Yep Free Yep Grazie Grazie No Thanks Ok Dai io vado Lasciamolo qui Praticamente gli abbiamo regalato una borsa Dai È bello comunque fare queste cose Fra Diciamo Quelli che appartengono alla stessa casa Perché comunque È un È un modo per collaborare No? Diciamo così Questa qui è la sala comune Diciamo è il dormitorio dei maschi Qui dentro Se io sblocco Mi pare o questa O Con quale lag Oppure uno di queste ceste Che vedete Adesso sono chiuse Ecco Sono queste qui Queste ceste sono chiuse da un incantesimo magico Quando sbloccherò più avanti queste cose qui Avrò permesso praticamente di Tenere delle mie cose Comunque io ultimamente sto dormendo in questo letto Così Boh Ve lo dico e basta E Sì Veramente molto carina sta cosa Fra l'altro mi pare che c'è anche una zona più alta Della sala comune Ma non mi ricordo mai come si fa ad accedere Allora Facciamo una prova Ah è Tipo è da questa parte Ok Se saliamo di qua Vediamo 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 Quanto è Quanto è alta Ragazzi Quanto è alta Ok Siamo arrivati qui In questa sorta di intermezzo Con un altro focolare Bisogna salire ancora Veramente una cosa micidiale Eccoci qui Perfetto Allora qui abbiamo la cupa Di Dei duellanti Che abbiamo vinto appunto noi corvo nero Il 7 Il 7 dicembre del 2015 Quindi anche molto recente E Sì Molto figo C'è anche un paiolo qui a caso Ma comunque è un posto molto figo Si può salire anche da questa parte E c'è tipo una sorta di Zona più alta Con Qui un coso per fare le pozioni Però Non sono Mi pare che bisogna essere al secondo anno Per poterlo sbloccare Io sono ancora al primo anno Comunque adesso ci tippiamo immediatamente Nella sala Grande Stavo dicendo sala comune In realtà è la sala grande Con quale lag? Mio dio Ogni volta che mi tippizzo qui C'è un lag tremendo Allora Vi voglio portare in un posto molto figo Proviamo ad andare Nel Proviamo ad andare Nella sala comune De Grifondoro Perché effettivamente La mia skin È quella di un giocatore Di Quiddish Di Grifondoro Quindi è anche Una cosa giusta Entrare qui E c'è la signora grassa Ovviamente Basterà aprire qui Si apre lo sportello Qui c'è Quella che ti vendi i vestiti Nella sala comune Di Grifondoro Eccola qui Eccola qui La sala comune È bella Però è stretta Non lo so perché Mi fa stretta È Diciamo anche quella del film Mi sembrava un pochino più grande Comunque è molto figa pure questa Si sale di qua Vedete E da questa parte C'è la Diciamo la zona Per i maschi Dall'altra parte La zona uguale Però per le femmine Io ho esplorato un po' Tutte le sale comuni Però vedete Questa qui In questo caso È più figa questa Come dormitorio Devo dirlo Però vabbè Comunque io le ho spoilerate tutti Se volete possiamo andare Anche nelle altre Tipo questa qui Vicino alle cucine Qua dietro ci sono le cucine Vi faccio vedere Esattamente Quindi di qua ci sono tutti Gli elfi domestici C'è uno chef Ci sono gli elfi domestici Vedete E qui Queste qui sono le cucine Da qui si può anche rubare cibo Qui c'è un altro corvo nero Che stai facendo Ti tengo d'occhio E ok Torniamo indietro Vi faccio vedere La sala comune Dei Tassorosso Perfetto Scendiamo qui sotto Vai così E vabbè Qui si può anche sfidare a duello Fra l'altro Ed ecco qui Questa sala comune È molto figa ragazzi L'hanno Spartimentata Non so Diciamo L'hanno Divisa bene E tipo Siamo molto vicini al terreno È veramente carina Come sala comune E qui Cosa che c'è Ah ragazzi Ovviamente Qui è tutto su un solo piano Ok Proprio così Di cattiveria Qui c'è un altro Va bene Ci sono cose strane Non l'ho esplorata proprio bene Quindi Ok Posso prendere lo cibo da qua No eh No E quella di Serpe Verde Non l'ho ancora sbloccata Perché in realtà Non l'ho neanche trovata Quindi dobbiamo anche capire Dov'è questa sala comune Comunque Per questo episodio C'è un Superman What? Per questo episodio Voglio recarmi Nella Alla capanna di Hagrid Che dovrebbe essere Dovrebbe essere Questa qui Esatto ragazzi Esatto Siamo alla capanna di Hagrid Ai margini della foresta oscura Di qui c'è il castello Che si sta caricando Pian pianino Ok Qui c'è Rubeus Hagrid Perfetto Lo vedete qui Con il suo ombrello rosa Possiamo entrare Nella sua capanna Molto figo E da questa parte Adesso non so se ci sono Però Tipo ieri sera Che ci stavo giocando C'era Potevi combattere I mob Qui dentro Ma sono tipo Delle Delle creature Delle Delle creature magiche Strapotenti Ci sono anche Testral Da qualche parte E il che è abbastanza È una cosa molto preoccupante Eccoli qui Li vedete Sono queste bestie Ho imparato anche Usare bene Questi incantesimi Tipo L'unico incantesimo Di attacco Che conosco Per l'appunto È questo E da Praticamente Ai mob Un Un boost In alto Tra l'altro Sto laggando Quindi magari Dovrei ridurre Le qualità grafiche Perché ormai Lo sapete Che in questo server Si lagga Ok Il mio incantesimo È stato frizzato È stato tipo Interrotto Parato Ok Qui c'è un altro Zombie È molto figo Combatteri Perché ti droppano Da quanto ho capito Le Tipo Delle Colpisci Ti prego Oddio Come ho fatto Come ho fatto Gli ho sparato Un incantesimo Strapotente Come nella vita Non lo so Ok Questo qui Io so come Gli ho sparato Come vedete È molto strano C'è il modo Di duellare Fra l'altro Ho scoperto Che esistono Diversi tipi Di Diciamo Livelli Per lo stesso Incantesimo Ecco Vedete Ha droppato No l'ha preso lui Infame Praticamente droppano Bottigliette di esperienza E oggetti Così Mio dio Ah lui che spara Tipo Raggi di fuoco Ok Chiaro Tipo Però Scappa di brutto Ok L'ha allontanato Me la fugo Me la fugo Via Me la fugo Via Torno Assolutamente Alla sala grande Perché è veramente Una cosa micidiale Sto posto E comunque Si puoi farmare Lì Anche lì Ho farmato Un po' Di queste cose E ho farmato Questi 6 livelli Che vedete Per l'appunto Nella barra Dei livelli Si Allora In questo episodio Vi ho fatto vedere Tutto ciò Siamo già a 18 minuti Di registrazione Quindi direi che possiamo Concluderlo qui È stato un episodio Di passaggio Diciamo Nel prossimo episodio Voglio portarvi Nel ministero Della magia Perché è veramente Una cosa micidiale Anzi Fatemi sapere Volete andare Nel ministero Della magia Oppure preferite andare A dog's maid Perché lì Anche lì ci sono cose Molto fighe Da vedere Comunque ragazzi Per il momento è tutto Direi che noi ci vediamo In un prossimo video Se per caso Mentre gioco Avviene un qualche duello Oppure C'è un'altra partita Di quidditch Registro subito E quindi Mandiamo Diciamo Rimandiamo La gita A dog's maid O al ministero Della magia Comunque Per il momento è tutto Continuate a supportare Questa serie Che ho visto Che vi sta piacendo Un sacco Lasciatemi un commento Se avete dei consigli Qualsiasi cosa E noi ci vediamo In un prossimo video Un saluto da Tesla E alla prossima Bye bye